La situazione è sicuramente una situazione complessa, i dati sono sempre più preoccupanti, il numero dei soggetti che presentano problemi alcol correlati sono in costante crescita. La mia prospettiva, che è la prospettiva della società nazionale degli operatori della prevenzione, quegli operatori che operano all'interno dei dipartimenti di prevenzione con funzioni di vigilanza e di prevenzione sui temi della sicurezza sul lavoro, è una prospettiva di grande preoccupazione. Ci sono i temi della crisi che stanno attanagliando la nostra società e che hanno dei riverberi importanti anche sugli aspetti correlati all'alcol. Ci sono i temi del mondo del lavoro che sta cambiando, quindi non è solo la crisi ma è proprio il mondo del lavoro che cambia. Non ci sono più i rischi lavorativi che c'erano qualche anno fa, i rischi lavorativi stanno modificandosi. Abbiamo ad esempio un costante incremento dello stress correlato al lavoro, abbiamo la società delle 24 ore che impone dei ritmi di lavoro sempre più stressanti, sempre più accentuati, abbiamo l'invecchiamento della popolazione lavorativa perché manca il turnover. Insomma ci sono tutta una serie di aspetti anche di carattere sociologico o socio-economico che incidono fortemente sulla condizione psichica, psico-emotiva e non solo sui rischi lavorativi nelle aziende. Tutto questo indubbiamente non fa che contribuire ad allargare la preoccupazione, ad amplificare la preoccupazione che noi operatori della prevenzione abbiamo sulla presenza di questi problemi all'interno delle aziende. L'azione che noi mettiamo in atto è un'azione di prevenzione. Ci riteniamo un nodo di una rete e come sappiamo il tema alcol è un tema piuttosto complesso che coinvolge più operatori, più professionalità. La difficoltà è quella di mettersi in rete, cercare di costruire un sistema che riesca ad affrontare compiutamente il diritto alla salute e il diritto al lavoro. La tutela del posto di lavoro, la tutela del reinserimento negli ambienti di lavoro, la rete familiare, la rete sociale intorno a questi soggetti. Insomma sono tutti temi fortemente caldi che verranno anche approfonditi nel corso di questa giornata.